Siamo ancora qua nell'angolo della cultura, sempre per portare via il posto a un nostro carissimo amico che in questo momento non è ancora arrivato, che è Mario, insostituibile. Lui viene con un libricino e viene e ci dà delle citazioni e dei buon consigli. Io sono qua invece con Angela. Angela, intanto che aspettiamo Mario, al cuore matto, tu hai qualche citazione che voi direte agli spettatori? Sì, che mi hanno detto di ragionare col cuore, ma il cuore è come la testa di inutile guida. Direi che è un'ottima citazione questa, quindi lasciamo questo massaggio per voi e vi aspettiamo qua per la prossima puntata insieme qua al cuore matto e anche ad Angela. Grazie Angela, ciao!